A parte ci fa piacere il Ministro Poletti lì solo soletto, ce lo ricordiamo nell'immaginario fotografato con Buzzi e non lì solo soletto a rappresentare il Governo. È così e non vi scaldate, accusate noi perché un reggente di una famiglia di Ostia condivide un nostro post su Facebook e tacete di fronte al Ministro che si fotografa con Buzzi. Ipocriti! Non vogliamo più che le cooperative che prendono quattrini dallo Stato finanzino la politica. Lei lo sa, Ministro Poletti, la cooperativa CPL Concordia, quella immischiata nello scandalo corruzione e camorra, quella dell'arresto del sindaco del PD, del sindaco del PD, del sindaco del PD, del sindaco del PD, ha dato 20 mila euro alla fondazione di D'Alema, ha finanziato la cena per Renzi. A proposito, il suo amico Buzzi, c'era o non c'era quella cena con Renzi, Ministro. Ha dato 17 mila euro al PD di Orfini. Non vogliamo più che queste cooperative corrotte finanzino la politica. Vediamo che cosa votate. Grazie.